ciao ragazzi questa è la lettera anzi è una serie di lettere e di pacchettini la più strana che ho mai ricevuto perché è una lettera a rate cioè hanno guardate allora praticamente nella stessa raccolta nella casella postale ho trovato praticamente una letterina spedita da ginevra e leonora ho aperto la letterina dentro c'erano due cosine due regalini c'era questo vetto un'altra cosa e non c'era la letterina però poi guardando in mezzo ne ho trovato un'altra sempre di ginevra e leonora da roma e dopo ne ho trovata un'altra e poi ne ho trovata un'altra quindi mi hanno mandato contemporaneamente quattro letterine e in tutte queste letterine c'erano tutte queste cose per fortuna ho trovato anche quella con la letterina quindi meno male avevo il terrore di trovare i regalini non trovare la letterina mentre invece la letterina c'è e dice care barbara e lara siamo due cugine di nome leonora e ginevra abbiamo otto e nove anni volevamo chiedere a lara di essere nostra amica ma lara sicuramente vi dirà di sì e poi io ne saluti delle nostre lol che vi salutano tutte quante vi seguiamo da tanto tempo e vi adoriamo speriamo che i nostri regali vi piacciono ha firmato ginevra e leonora meno male ero preoccupata di non avere la letterina invece quelle c'è qui c'è Alice che dice dice mela e qua c'è l'olina che dice benvenuti nel mio canale youtube e adesso andiamo a scoprire tutti questi regalini che sono arrivati nelle varie nei vari pacchetti in una busta c'era questo io l'ho già spirciato confesso che l'ho già guardato e c'è una collana lunghissima fatta con gli elastici da loro ma siete state fantastiche guardate che è arte questa è lunghissima qui c'è una cosa che suona una maracas fatta con la pasta e la pallina poi ci sono delle c'è una mela ci sono delle cose perlele un'altra scarpina questo pure perlele c'è una lol paper che darò a lara qui ci stanno under fashion qui c'erano contenute un po di quelle cosine che avete visto qui c'è qualcosa per master lo guardate un po che hanno fatto l'hanno fatti tutti loro a mano c'è una una crostata guardate questo è un ciondolo perché gli hanno messo il gancetto poi c'è un altro ciondolo le patatine hanno fatto le patatine del mcdonald dei geni qua c'è una specie di panino e altre cose e poi che sono già aperto qua che c'è a questo è solo i cerchietti sì queste sono delle collanine per le lol ce ne sono dentro tantissime e poi c'è questo che è un ventaglio già ho visto questo che devo ancora aprirlo e lo apriamo insieme a voi c'è scritto per lara e appena torna glielo darò c'è questo vettino qui e cos'è ma che carino no disney guardate un po biancaneve col principe questo diventerà un giocattolino per le lille perché sicuramente adoreranno fare le favole in miniatura a misura delle lille grazie siete state fantastiche e poi veramente non avevo mai ricevuto una letterina divisa in quattro buste bene se questo video vi è piaciuto mettete like col pollicino quello in su e poi dopo iscrivetevi che questo bellissimo canale perché il suo logo c'è lo sfondo raccobaleno come me e soprattutto e qui c'è il bollino di questo poi c'è quell'altro del canale di barbara e qui sopra vi metto qualcosina da vedere dopo ho detto bene barbara stella ti sarà bravissima bene adesso dammi del cibo subito scusami perché perché l'ho detto bene quindi mi merito qualcosa stella no niente niente no hai già mangiato tutte le fini delle barrette ma non suona più le mangiate tutte erano buonissime basta allora per un po basta ma è una gioia ma se le mangiate tutte ti pareva ciao ragazzi un bacio a tutti quanti